Gli uomini della squadra volanti della questura di Ragusa hanno arrestato Dayu El Saed, albanese di 19 anni, residente a Santa Croce Camerina e denunciato un sedicenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La Polizia di Stato ha intensificato infatti i controlli lungo tutta la fascia costiera e in particolar modo la squadra volanti di Ragusa ha implementato il numero di uomini e mezzi a Marina di Ragusa. Da circa due settimane i poliziotti di quartiere stanno prestando servizio nell'area pedonale e commerciale di Marina come polizia di prossimità con base presso l'ufficio controllo del territorio del porto turistico. I risultati sono subito arrivati, difatti i turisti, residenti e commercianti pochi giorni fa avevano segnalato la presenza di giovani sospetti con molta probabilità non residenti in zona, motivo per il quale è stata predisposta un'attività info-investigativa rivolta ad appurare quanto segnalato. Acquisiti gli elementi di indagine necessari, ieri sera nel parco antistante via Vulcano a Marina sono stati notati due giovani che si aggiravano con fare sospetto. A lato del controllo i due si sono mostrati particolarmente nervosi per cui si è proceduta la loro perquisizione che ha portato a rimanimento addosso al maggiorenne di ascisce marijuana già confezionate in dosi per un peso complessivo di oltre 40 grammi e dalle quali era possibile ricavare altre 250 dosi. Il maggiorenne è stato quindi tratto in arresto mentre il minore è stato affidato ai genitori e denunciato in stato di libertà. L'attività tecnica condotta sui telefoni cellulari ha consentito inoltre di risalire a parte degli inquirenti che sono stati convocati seduta stante presso gli uffici della questura insieme ai genitori.